ciao ben ritrovati allora andiamo a vedere con questo interattivo quali saranno le novità sul lavoro quindi ci dedichiamo esclusivamente a questo ambito della della vita ok e queste sono le tre varianti prima variante seconda e terza mi raccomando scegliete molto molto a livello intuitivo l'immagine che più vi richiama è molto importante ok quindi prima variante seconda variante terza variante vi lascio ancora qualche secondo e poi direi che possiamo partire eccoci prima variante allora hai scelto questa carta questa carta e che fa parte dell'intuiti creative cards che sono diciamo un po una bussola di quello che nel mondo chiamato intuizione in realtà sono diciamo carte molto rivelatrici no e questa carta ti dice per quanto riguarda il lavoro insomma la tua vita pratica e materiale che forse devi ritrovare un po la la gioia di quello che fai o di quello che vorresti fare ok e quindi in ritornare un po bambino cioè di sentire quella energia creativa che hanno i bambini che non stanno tanto a pensare ok quindi questa carta ti dice ritrova riprova a sentire come un bambino quindi probabilmente magari insomma chi ha scelto questa carta quindi la prima variante potrebbe avere in questo momento magari bisogno di dare spazio più alla propria creatività o al proprio sentire forse c'è potrebbe esserci per questa variante un pizzico di insoddisfazione di frustrazione ok però non è detto è questo è diciamo il significato di questa carta adesso andiamo a vedere con i tarocchi allora abbiamo un asso di bastoni il diavolo due di spade il cinque di coppe abbiamo un'altra carta e il tre di denari allora dunque io qui vedo diciamo che ci sono delle energie contrastanti la prima e l'ultima carta in realtà sono carte molto belle un asso di bastoni e un tre di denari è nel mezzo che c'è un po di subbuglio mi verrebbe da dire per quanto riguarda la vita lavorativa materiale insomma i progetti quello che è per ognuno di voi no è come che ci sia una possibilità molto positiva per voi la possibilità quindi di sbloccare una situazione lavorativa comunque di iniziare no qualcosa di entusiasmante però io qui vedo in mezzo per fortuna poi col tre di denari questa cosa finisce finisce bene insomma però io qui vedo in mezzo delle carte molto limitanti e come che mi riallaccio un po' anche a la carta dell'intuity cards e come che abbiate veramente bisogno di ritrovarvi ritrovare un po' lo spirito giusto per portare avanti quello in cui credete perché qui c'è un bellissimo asso di bastoni e un bellissimo tre di denari no come ultima carta ma nel mezzo io vedo delle difficoltà e sono difficoltà francamente che io vedo che avete voi ok non vengono dall'esterno cioè io mi arriva molto questa sensazione ok poi per l'amor di dio ci può essere ci possono essere situazioni in cui magari ci sia anche una causa esterna e allora il la cosa importante è che comunque questo asso di bastoni quindi questo inizio lavorativo questo inizio di progetto questo nuovo inizio va a finire bene perché comunque finisce con un tre di denari che è la carta proprio della collaborazione delle belle collaborazioni delle belle sinergie probabilmente avrete delle difficoltà cioè io qui vedo delle difficoltà che ripeto possono essere mi viene da dire nella maggioranza dei casi vostre dovute a paure timori non lo so c'è qualcosa qui di però è un blocco abbastanza forte qui è io vedo per quello che mi viene da dire per molti di voi cercate proprio di ritrovare uno spirito gioioso è come che l'abbiate un po' perso ok e addirittura mi viene da dire che alcuni di voi addirittura si stanno autosabotando quindi fate attenzione perché le possibilità qui ci sono di andare oltre di fare qualcosa di entusiasmante di soddisfacente di gratificante ok però ecco ci sono queste carte che rendono diciamo difficoltosa questa cosa ok perché ripeto finiamo con un tre di denari quindi va tutto bene però che fatica ok quindi io qui vedo per la prima variante una buona possibilità dal punto di vista lavorativo ovviamente ognuno poi ha la propria situazione però c'è una buona possibilità con delle buone collaborazioni buone sinergie ma tanta fatica nel mezzo tanta fatica quindi insomma voglio prendere fuori un'altra carta perché la vedo una stesa un po' faticosa vediamo un'altra carta non lo so è proprio come e come veramente questa carta delle intuiti cards è molto in sincronia perché sembra proprio quasi che molti di voi siano sopraffatti da dubbi da la papessa beh meno male la papessa è sempre una carta molto positiva quindi in questo caso mi piace perché supporta quello che è un seguire anche le vostre intuizioni e il vostro sentire e qui ci rifacciamo un po' alla carta delle intuiti card mi raccomando date spazio a quello che il vostro sentire più profondo ok qui fra l'altro la papessa è anche la carta degli accordi scritti quindi in alcuni casi potrebbero esserci anche proprio dei degli accordi su nero su bianco è mi raccomando perché è un vedo della fatica non lo nascondo non lo nego perché con questo con il diavolo il 2 di spa del 5 di coppe insomma è una diciamo una riuscita faticosa però ripeto per molti di voi dipende per molti della prima variante dipende da voi quindi quindi insomma cercate di veramente tornare a sentire quello che magari vi aveva spinto no ad arrivare a questo asso di bastoni tornare un po' a sentire quello spirito comunque va tutto a finire bene perché ripeto c'è un 3 di denari poi una papessa quindi assolutamente va a finire tutto in maniera positiva rimane il fatto che comunque è faticoso è qualcosa di faticoso forse è un inizio un cambiamento sul lavoro per alcuni che magari un po' vi spaventa non lo so però insomma sicuramente qui c'è tanta fatica e anche proprio secondo me un forte autosabotaggio prima variante coraggio coraggio mi raccomando io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao eccoci seconda variante allora questa carta che avete scelto delle intuitive cards ti dice che devi analizzare bene cioè devi usare una certa diciamo dose di raziocinio in appunto parliamo dell'ambito lavorativo ambito progettuale insomma la propria gratificazione personale no e l'input di questa carta è quello di analizzare bene la tua situazione o un particolare aspetto magari del tuo ambito lavorativo andiamo a vedere adesso con ecco sono già cadute due allora abbiamo un 8 di coppe al contrario un 4 di spade al contrario un re di spade qui ne sono cadute troppe un fante di denari al contrario prendiamo un ultima carta vediamo l'ultima carta l'ultimo arcano e un 3 è uscito orizzontale lo prendiamo così allora seconda variante le vedete sì dunque ma io qui mi viene da dire che qui forse c'è anche troppo un eccesso di razionalità vi dico la verità perché qui ci sono molte carte al contrario un 8 di coppe al contrario un 4 di spade al contrario con un fante di denari al contrario mi fanno un po' mi arriva arriva questa sensazione che forse state troppo siete troppo mentali addirittura siete un po' passati o state passando all'eccesso di questa carta e questo non vi permette di cogliere delle opportunità che arrivano solo che è un fante di denari al contrario ok quindi io qui vedo sinceramente un po' una situazione di blocco per quanto riguarda l'aspetto lavorativo ora dipende dalla situazione magari potrebbe essere anche una persona un collega qualcuno che determina questo blocco per esempio se lavorate con altre persone non siete autonomi e magari siete in un ambito di lavoro dipendente oppure comunque delle collaborazioni quindi potreste essere voi ma potrebbe essere anche in alcuni casi una persona che non vi permette di come posso dire che crea insomma un blocco dal punto di vista lavorativo ok dal punto di vista dei progetti che volete portare avanti e quindi qui devo dire che in questo caso c'è un eccessivo razziocinio o da parte vostra o da parte di una persona che effettivamente insomma questo razziocinio che sia eccessivo razziocinio che sia vostro o di un'altra persona sta creando un po' di problemi e un po' di problemi o addirittura proprio un blocco per quanto riguarda l'abbiare di progetti per quanto riguarda magari un'armonia all'interno di un ambiente lavorativo o oppure proprio per chi magari sta cercando lavoro la difficoltà a non cogliere a non voler cogliere magari delle opportunità fatemi prendere un'altra carta perché è una lettura un po' difficoltosa allora vediamo vediamo che cosa viene fuori dopo questo 3D spade ci sono questo 3D spade mi fa pensare anche che in alcuni ambiti ci sia proprio una persona un ambito lavorativo che insomma effettivamente vi fa un po' penare allora uscita orizzontale anche questa un 6 di coppe ma qui si potrebbe questo 6 di coppe per fortuna essere una carta che va un po' a riequilibrare una disarmonia che potreste avere nel proprio ambiente lavorativo ok se non fosse così magari sono le vostre energie che si riarmonizzeranno un po' e diciamo la situazione comincerà un po' a sciogliersi ok quindi le novità quali sono le novità ma qui onestamente allora o c'è ripeto per alcuni una persona che crea delle difficoltà e che però diciamo la situazione va un po' a riarmonizzarsi anche se è orizzontale questo 6 di coppe oppure è una vostra un vostro eccessivo razziocigno che non vi fa più forse come posso dire cogliere o andare oltre rispetto a certe situazioni o cogliere delle opportunità quindi questa è una lettura a me dispiace seconda variante quindi è un po' particolare quindi se non ti risuona ovviamente posso capire perché è un po' particolare però qui c'è insomma un momento un po' di difficoltà e ripeto questo 6 di coppe è una carta che va anche se è orizzontale va un attimino a riarmonizzare un po' questa situazione sia che dipenda dalle vostre energie mentali sia che dipenda da una persona ok quindi va comunque in miglioramento però insomma è un po' ancora lento come 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 miglioramento ok seconda variante sorry ma ma la lettura è questa spero comunque che un po' ti sia utile soprattutto se riguarda le tue energie se senti che effettivamente di fronte a una situazione lavorativa di fronte a dei progetti che vuoi iniziare di fronte magari a un cambiamento che vorresti fare ti senti troppo mentale troppo lì che pensi ecco cerca di di cambiare un po' le tue energie ecco questo è l'unico consiglio se dipende da te ovviamente che posso darti ok allora seconda variante io ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao eccoci terza variante allora tu che hai scelto questa carta allora questa carta dell'intuity cards che cosa ti dice per quanto riguarda ovviamente il lavoro l'ambito lavorativo progetti o quello che è ti dice che troppa indecisione può lavorare e ti dice anche che tu hai tutte le capacità le potenzialità per fare quello che vuoi fare ma sei forse troppo indeciso e questa carta ti dice piuttosto che non fare niente sbaglia ma fai qualcosa quindi passa all'azione ok questo è diciamo il significato qui è già caduta prendiamo subito questo fante di coppe beh caspita sono cadute queste che sono fante di bastoni il mondo il carro e il mago tre arcane maggiori fra l'altro sono carte bellissime che fra l'altro ti vanno a confermare di agire perché qui io vedo innanzitutto delle possibili collaborazioni proposte in arrivo ok che ti permettono di chiudere un ciclo ed iniziarne uno alla grande con questo carro e questo mago ok un'altra sensazione che mi arriva è questa non accontentarti mi spiego questo mondo è caduto al centro no a sinistra abbiamo due fanti e a destra abbiamo due arcane maggiore abbiamo un carro e un mago e una sensazione che mi arriva per alcuni di voi non per tutti è che potresti ricevere delle proposte ma da dei fanti ok quindi proposte che in realtà non sono non sono proprio quello che vuoi no e allora questa carta ti può anche invitare a passare all'azione proprio per avere il coraggio di chiudere una parte dove ci sono magari dei collaboratori o delle proposte che però sono timide proposte timide lavori progetti un po' timidi per poi invece avanzare con un carro e un mago cioè un nuovo inizio ma alla grande no qui abbiamo due arcane maggiori quindi questa è anche un'altra interpretazione che mi viene da dare per alcuni di voi comunque al di là di questo qui direi che l'esortazione ad agire è più che mai azzeccata perché qui comunque c'è un grande movimento c'è la possibilità di chiudere un ciclo per quanto riguarda l'ambito lavorativo poco gratificante o comunque che non avanzava magari come desideravate voi e vedo però poi un carro è un mago quindi vedo proprio un avanzamento bello come posso dire deciso ok con un nuovo inizio molto molto entusiasmante e molto concreto quindi mi raccomando queste carte vi dicono non siate più indecisi perché è il momento proprio di agire di non avere delle indecisioni ok e anche di sbagliare per esempio questi due fanti potrebbero essere dei vostri tentativi piccoli ok che poi vi portano in realtà ad un carro e ad un mago ok quindi insomma questa è una bella situazione anzi terza variante vi dico che è la migliore perché le altre due insomma erano un po' sono state un po' complicate invece qui sono carte molto belle l'unica cosa mi raccomando non essere indeciso agisci agisci perché hai delle energie veramente molto molto positive con la possibilità di avanzare anzi mi viene da dirvi un'altra cosa ancora di più che se non siete indecisi e avete le idee ben chiare e avete il coraggio come dicevo prima per alcuni di voi di non cogliere queste due magari opportunità un po' timide qui arriva qualcuno invece che vi offre un inizio con questo carro arriva qualcuno che vi offre un inizio veramente molto più consistente molto più consono a quelli che sono le vostre inclinazioni ok e le vostre potenzialità quindi insomma terza variante è un sono novità molto belle l'unica cosa ovviamente mi raccomando non essere indeciso piuttosto sbaglia ma fa qualcosa ok questa è la cosa principale per il resto direi che sono carte bellissime grandi novità quindi io ti saluto ti abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao